Ciao amici del MyLab, oggi è una giornata veramente speciale perché ho qui con me Simone Leo. Simone Leo è, per dirla in una parola, un ultramaratoneta, un nostro amico che è tornato da un'impresa leggendaria. È la prima persona che è riuscita al mondo a completare le sette sorelle, ovvero le sette ultramaratone più dure al mondo. Una ultramaratona, per chi non lo sapesse, è una gara di corsa ovviamente superiore alla distanza della maratona. La maratona sono 42 chilometri circa e le ultramaratone vanno oltre i 42 chilometri. Uno dice, vabbè, saranno 50, 55, no, sono da 200, 250, ne ha fatta una anche da 490 chilometri. Quindi oggi vi presento Simone Leo e abbiamo l'onore di poter chiedere a lui cosa si prova e come funziona fare una gara di questo genere. Dovete sapere che lui è piuttosto modesto, quindi adesso devo tirargli fuori io un po' le imprese epiche che è capace di fare sto ragazzotto. Raccontaci cosa vuol dire essere in una maratona, in una ultramaratona, sono già passati 100, 150 chilometri. Come ci si sente a livello di corpo, di sensazioni, anche a livello mentale? Immagino sia una fatica difficile da spiegare, che ne dici? Come hai detto bene tu, non mi ritengo assolutamente non un campione, non mi ritengo nemmeno un atleta, gli atleti secondo me sono altri. Il bello di queste gare così estreme è che il primo che arriva al traguardo, così come l'ultimo, ricevono lo stesso festeggiamento, lo stesso tipo di accoglienza, perché appunto in gare del genere l'importante è arrivare. Ecco, io sono di quella categoria che pensa ad arrivare, ecco. Ovviamente non sono tra i primi, ma comunque mi godo il viaggio tanto quanto i primi. Certo. E sei il primo che ha completato queste sette al mondo? Sì, sì, le Seven Sisters, così chiamate, da un'idea di Chris Costman, che è il direttore di gara della Badwater Ultramarathon, che si corre nella Valle della Morte, la Badwater Ultramarathon è considerata dai più, insomma nel nostro mondo, l'ultramaratona più dura al mondo, proprio per le alte temperature. Io ho corso 217 chilometri, con 4500 metri di dislivello circa, con temperature che hanno oscillato da una minima di 43 gradi a una massima di 54. La minima 43? La minima 43, compresa la notte. Compresa la notte, vuol dire che non è mai scesa sotto i 43 gradi la temperatura durante la gara, tranne gli ultimi due chilometri che si ha in montagna, però ormai la gara è finita, diciamo. La minima è stata 43, la gara parte alle 21.30 della sera e c'erano 47 gradi. Si è arrivati a toccare una temperatura di 53.9, quindi di 54 gradi, che tra l'altro è stata la temperatura più alta registrata sulla Terra lo scorso anno, con un asfalto, perché si corre tutta su asfalto, che è arrivato a toccare quasi 80 gradi di temperatura. Mi pare che tu abbia sciolto un paio di scarpe. Esatto, si è sciolta l'intersuola delle scarpe. L'intersuola, quindi... Questa viene ovviamente considerata come la gara più dura del mondo e le Seven Sisters sono le sei gare oltre i 200 chilometri qualificanti a Badwater più la Badwater stessa. Più la Badwater stessa. Esatto, sì. Non è che a una gara del genere ti iscrivi e vai. Assolutamente no. È su invito? Su invito. La Badwater nello specifico è una gara che è aperta a soli 100 atleti al mondo su invito personalizzato di Chris Cosman. Ovviamente uno manda la richiesta, poi lui valuta non solo le gare fatte, ma il trend delle gare fatte negli ultimi anni. Lui non guarda, che ne so, che tu hai fatto per tre volte la stessa gara, seppur durissima. Preferisce che tu abbia molte gare. Per cui io sono arrivato da lui con cinque ultramaratone delle top che lui richiede fatte su sei, avendo già fatto l'anno prima da crew al campione Marco Bonfiglio, mio amico, uno dei più forti ultramaratonetti al mondo. Per cui insomma sono stato invitato e sono riuscito a correre questa gara. Le Seven Sisters sono appunto queste gare qua. Badwater più le sei qualificanti alla stessa. Quella lì sei partito di notte, di sera, molto tardi, le 9 di sera. Raccontaci un po' come si fa a dormire durante un ultramaratone di quel genere lì, che dura 50 ore, 60 ore, una cosa così, no? Con un tempo massimo. Badwater ha 48 ore di tempo massimo. Come si fa a dormire? Beh, questo è un po' un aneddoto, forse l'aneddoto per eccellenza. Esatto. Che io ho scoperto solamente nel 2013, alla mia prima ultramaratona oltre 200 km, che era l'ultra balaton in Ungheria, intorno appunto al lago Balaton. Ovviamente non dormi, almeno, diciamo, le persone… Io da ignorante mi sono immaginato, ma cosa fai? Ti butti, dormi un po'? E lui mi ha detto, se figurati, se dopo 100-150 km ti stendi 15 minuti non ti svegliano neanche quelle fucilate, cioè quindi non si può mettersi là a riposare un'oretta, mezz'oretta. Esatto, esatto, perché diciamo che le persone che hanno un po' il mio passo, ovviamente, non si possono permettere. Magari ci sono degli atleti che sono più veloci e si possono anche permettere l'oretta di sonno se proprio crollano. Diciamo che tendenzialmente si cerca di non dormire. Se poi però uno ha delle crisi di sonno che gli stanno, diciamo, rovinando la gara, ovviamente fa dei calcoli di gestione della gara e decide se dormire un'oretta. Io, di solito, col passo che io ho molto lento, non mi posso permettere un'oretta di pausa, per cui devo sempre cercare di continuare ad andare avanti. Questo però non toglie le crisi di sonno, per cui è capitato, dal 2013, prima volta che me ne sono accorto, ma poi è successo in tutte queste ultramaratone così lunghe, di dormire mentre correvo. Dormire mentre correvo? Sì, arrivano praticamente a una sorta di colpo di sonno, ecco, come in macchina, come quando succede in macchina, come quando, un esempio bello è come quando guardi la tv sul divano, che ti cade la testa, hai quell'attimo di abbiocco e questo succede anche mentre si corre, perché ovviamente dopo magari 40 ore di corsa, il movimento stesso della corsa è una cosa che è diventato ormai talmente naturale che puoi fare di tutto, il corpo lo fa da solo, esatto, il corpo lo fa da solo, va per inerzia, corre ormai per inerzia, per cui così come ti puoi mangiare una pizza nel cartone mentre corri, perché ormai la corsa fa parte dell'insieme, così capita che vai sovra pensiero e capita che ti addormenti. Ti addormenti nel vero senso della parola, nel senso che per un po' barcolli, dopo di che ti cade proprio la testa, allora in quel momento ovviamente ti svegli, anche perché sbandi un attimino, ma quel momento che va dall'abbiocco fino a che ti cade la testa può durare anche magari un minuto, due minuti e in quel minuto, due minuti addirittura puoi anche sognare. A me è capitato di sognare mentre correvo, mentre stavo andando avanti, ancora in Brasile è capitato nella seconda notte. Ovviamente un po' difficile da capire, ma succede davvero. È incredibile. Un aneddoto legato a Brasile, la prima notte è andata abbastanza bene, la seconda notte ovviamente di seguito, quindi senza dormire, ho avuto una fortissima crisi di sonno, ma il passista che era con me aveva più sonno di me, per cui non riusciva a tenermi. È capitato che abbiamo sbandato per ben tre volte, siamo finiti in un campo, ovviamente ti riprendi subito, però insomma è successo. Per fortuna non l'avete fatto in montagna e non siete andati più dal paracarro. Esatto, esatto. Tra l'altro io sentivo solamente la voce di questo personaggio, Alberto, un mio amico appunto che ha fatto da passista in Brasile, che mi chiamava Simone, sentivo mentre... Cercandoti. Esatto, perché io facevo di quelle sbandate tremende. Hai fatto un incidente a piedi potremmo dire. Tra l'altro devo avere una convergenza sbagliata, perché tendo sempre a destra. Come automobili. Esatto. E quando mi addormento, non so perché, veramente, ma da sempre mi capita di sbandare a destra. Devi rifare l'assetto delle scarpe. Esatto, può darsi. Quindi è stata insomma una notte infernale, perché poi se adesso... Noi la raccontiamo ridendo, ma al momento non è che è così piacevole, ecco. Per cui... Però insomma fa parte dell'avventura e solitamente dopo questo periodo di lungo sonno, di sonnolenza strana, diciamo, parte la grande rincorsa. Cioè mi sveglio di colpo e non mi fermo più. È come se veramente hai riposato otto ore in un letto, insomma, e riparti con nuovo vigore. Tant'è vero che se pensiamo al Brasile, ho avuto delle crisi di sonno durante la notte. Verso l'alba, intendo le 5 del mattino, ho avuto questa sveglia di colpo e poi praticamente ho corso fino al traguardo. Sono arrivato alle 10.45 e non ho poi dormito praticamente fino alla sera. Wow. Dopo 48 ore di gara. Avresti potuto permettere invece il cortisolo, diciamo così, teneva altre energie. Esatto. C'era ancora troppa adrenalina, sono riuscito a buttarmi giù 20 minuti giusto dopo la doccia, ma poi l'aperitivo chiamava e ovviamente non potevamo dire di no. Dopo la voglia di festeggiare in questi casi. Ovviamente, lo fai per quello. Sì, sì. 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 Sì.